Benvenute e benvenuti in questa terza lezione in cui andremo ad approfondire la diagnosi della disortografia, sempre con gli stessi punti trasversali che vedremo nell'arco di tutte quante le lezioni per ogni singolo DSA. Direi di iniziare guardando questo video. Così. Cerchiamo di analizzare un attimo ciò che abbiamo appena visto. Allora, in una prima fase vado a dettare al bambino la parola, poi chiedo al bambino di ripetermi la parola. Il bambino mi ripete la parola. Il bambino la parola me la ripete in modo corretto e me la scrive in modo scorretto. Chiedo al bambino di ripetermi la parola per avere contezza che il bambino abbia un'adeguata capacità di discriminazione uditiva di ciò che ho appena ascoltato, ovvero che devo avere la certezza, la verifica che il bambino la parola l'abbia ascoltata correttamente, me la ripete correttamente e quindi so che dal punto di vista della discriminazione uditiva non ci sono particolari difficoltà. Ma il bambino poi deve andare a scrivere la parola e non riesce. La difficoltà sappiamo che sta in quello che definiamo transcodifico-ortografica, che è la difficoltà tipica della disortografia. Bene, nel momento in cui va a scrivermi questa parola, ciò che andiamo a osservare, come ho osservato anche nella dislessia, è la sua enorme fatica nell'andare a realizzare questa parola, la sua mancata automatizzazione nel realizzare sempre questa parola. E ovviamente mi va ad omettere delle lettere, mi va ad inserire lettere che magari non vanno inserite. Cioè, nella disortografia accadono tutte quelle difficoltà che sono appunto correlate con quello che definiamo una difficoltà nell'ambito della transcodifica-ortografica. Bene, andiamo a vedere che cosa concerne nel dettaglio la disortografia. Dunque, la disortografia riguarda una grande quantità di errori ortografici, spesso simili, ripetuti e ricorrenti. Qui la difficoltà sta nei processi di cifratura del codice ortografico. Questo si può manifestare attraverso la presenza di errori nell'ortografia, ad esempio su base fonologica come dato in dato, oppure su base visiva ortografica come 5 in 5. Vediamo qualche esempio che vediamo qui nelle immagini. Da un lato abbiamo il bambino che scrive svago al posto di svago, oppure basca al posto di vasca. In questo caso abbiamo degli errori di sostituzione di lettera simile nel suono. Sotto invece vi è un altro errore, ovvero famigia al posto di famiglia. Qui abbiamo l'omissione di lettera e un tipico errore di transcodifica fonologica nella disortografia, a livello di conversione, fonema, drafema. Ma andiamo maggiormente nel dettaglio. Diciamo che le problematiche legate alla scrittura possono insorgere anche singolarmente in assenza di dislessia, ma più frequentemente si osservano in associazione con il disturbo della lettura. In entrambi i casi la valutazione della disortografia viene condotta con le stesse procedure diagnostiche, sia se presente in forma isolata, sia se in comorbidità con altri DSA. Quindi comunque la valutazione non cambia, sia se si presenta singolarmente che con altri DSA. All'osservazione, il quaderno del bambino evidenzia frequenti errori di varia natura, ma soprattutto questa lentezza esecutiva nella realizzazione dei trafemi. Ci sono appunto questi errori, come errori fonologici, fonetici, visivo-ortografici. Si sottolinea che la lentezza non dovrebbe essere causata da una scarsa abilità nella velocità del gesto motorio, per la realizzazione dell'allografo, valutabile poi attraverso delle prove di pressia della scrittura, aspetto dell'allografia di cui parleremo nella successiva lezione. La bassa velocità nella realizzazione della parola andrebbe piuttosto attribuita a una carente abilità nella conversione fonema-rafema, quindi ad una mancata automatizzazione della conversione fonema-rafema, oppure a un deficitario richiamo della forma ortografica della parola dal lessico mentale. Quindi il bambino, come il bambino che abbiamo visto, non scrive lentamente perché è lento il suo gesto grafico, ma scrive così lentamente perché è lento il suo richiamo ortografico della parola. Gli insegnanti in genere riferiscono che questi alunni restano indietro durante un dettato che nei compiti in classe producono, ad esempio, poche frasi e lessicalmente povere, dunque con un numero limitato di parole. E che consegnano in ritardo il loro elaborato, il quale molto spesso contiene un importante numero di errori ortografici. La verifica dei quaderni da parte del clinico consente infatti di evidenziare la presenza di errori di diversi tipi, errori fonologici, come fare al posto di fare, eccetera. Come errori fonetici, come doppie e accenti, errori lessicali, come la scrittura di parole regolari e fusioni illegali, errori visivo-ortografici, come l'inesatta realizzazione del suono, Q al posto di Q. Anche in questo caso la problematica va sempre considerata in termini evolutivi. Inizialmente, nelle prime fasi della scolarizzazione, dalla terza classe della scuola primaria, sono maggiormente presenti nella produzione scritta del bambino errori di inesatta corrispondenza, fonema-rafema, omissioni di lettere, imprecisioni nella realizzazione dei tridrammi, con il procedere poi della scolarizzazione, quarta e quinta primaria in poi, permangono errori di doppie, accenti, fusioni e separazioni illegali, nonché l'inesatta scrittura di parole omofone e non omografe. Ad esempio, A con l'H, ma anche lago-lago, eccetera. Questo cosa vuol dire? È un fatto che viene anche riportato all'interno dei documenti di consenso, soprattutto nella consensus conference del 2011 dell'Istituto Superiore di Sanità, ovvero che degli errori evolutivi avanzati, ovvero quelli indicati per la quarta e quinta primaria, quindi errori doppie, accenti, fusioni illegali, separazioni illegali e così via, sono errori che tecnicamente in prima, seconda e terza classe primaria possono anche essere tollerati dal punto di vista neuropsicologico. Ma questi errori in quarta e in quinta classe diventano non più tollerabili, quindi diventano già errori abbastanza importanti. Questo cosa vuol dire? Che un bambino magari in prima, seconda e terza classe primaria commette tutti questi errori, ma noi andremo a lavorare sulla prima classe di errori, ovvero ad esempio sugli errori di tipo fonologico, che sono quelli più importanti da andare a lavorare in prima, seconda e terza classe primaria. Anche perché, come vedremo successivamente, se il soggetto apprende bene gli aspetti fonologici della scrittura, poi in modo conseguente riuscirà ancora meglio, probabilmente, ad apprendere meglio gli aspetti ressicali di scrittura. La disortografia può manifestarsi anche con la difficoltà dello studente nel comporre testi scritti, evidenziata da errori drammaticali o di punteggiatura, nella stesura della frase o nella scadente organizzazione del testo, che ad esempio può essere composto da frasi nucleari o con coordinato, ovvero da frasi molto semplici, troppo semplici. L'abilità generale di scrittura può interessare vari moduli di competenza, quella motoria, per la evoluzione della disortografia, ma anche quella linguistica, intesa come processo di codifica per la disortografia. È la componente dell'espressione scritta, intesa come realizzazione di fasi e di testi scritti. Quindi questo è quello che ci troviamo di fronte dal punto di vista neuropsicologico, una sorta di traduzione degli errori che osserviamo sui quaderni dal punto di vista tecnico-scientifico, ovvero ritroviamo errori in vari ambiti, errori fonologici, errori lessicali, errori nel, o meglio, un repertorio lessicale scritto abbastanza povero, riscretto e conciso. Questo è il modello di sviluppo, secondo il modello appunto di Utafritt, in cui facciamo riferimento per quanto riguarda la diagnosi della disortografia e l'intervento nella disortografia, perché ovviamente il modello diagnostico è bene che sia sempre lo stesso sia per la diagnosi che per l'intervento, perché diagnosi e intervento devono collimare in modo decisivo e importante. Quindi chiaramente il modello deve essere chiaramente lo stesso. Bene, abbiamo una prima fase, che è una fase logotrafica, in cui il bambino impara a leggere e a scrivere parole in senso globale, in senso generale. Ad esempio, scrive la parola casa. Non è detto che scrive la parola casa in questa fase perché conosca proprio le singole letterine. Magari la scrive più come un disegno, ovvero scrive la parola casa perché ha appreso che quelle forme vogliono dire la parola casa, il disegno casa, insomma. Quindi le scrive più come un disegno. Poi inizia le vere fasi di apprendimento, in cui vi è la fase alfabetica, e vi è dunque una prima applicazione delle regole di conversione forne-marrafema, una fase ortografica, in cui iniziano a instaurarsi le associazioni nuove, tra parti più complesse delle sillabe, dei suffizi, dei morfemi, e poi la fase lessicale. Dunque le parole vengono scritte senza trasformazioni parziali, ma in maniera diretta e globale. Per chi di voi ha frequentato o andrà a frequentare la seconda parte, che è quella dedicata all'aspetto operativo del trattamento dei DSA, per ogni singola fase abbiamo dei protocolli di intervento specifici con i materiali che andiamo ad utilizzare in modo chiaro. Questo lo andiamo ad affrontare in questa maniera, sia per quanto riguarda l'ortografia, ma anche per quanto riguarda la lettura, come abbiamo visto nella lezione precedente. Bene, questo è un modello di integrazione che mette insieme sia lo sviluppo della lettura che lo sviluppo della scrittura. Quindi questo grafico va a integrare i due modelli, andando così a notare come queste due abilità si aiutano a vicenda, in cui le fasi di sviluppo riprendono quanto abbiamo già visto nella lezione precedente, in cui abbiamo la fase olografica che è la stessa per lo sviluppo della lettura e della scrittura, una prima fase alfabetica che si sviluppa nell'ambito della scrittura, che va ad interrarsi con la fase alfabetica della lettura, la fase ortografica della lettura poi farà in modo di andare a integrare e far sviluppare ovviamente anche un aspetto ortografico della scrittura. Quindi diciamo che si aiutano a vicenda, ma come diagnosi possiamo avere anche solo dislessia o solo disortografia, anche se in buona parte dei casi comunque le possiamo anche trovare insieme, quindi sia dislessia che disortografia. Facciamo un esempio pratico del modello teorico che abbiamo visto precedentemente. Ad esempio, io ho detto al bambino la parola pane, quindi il bambino ascolta la parola pane. La prima fase sarà quella di discriminazione uditiva. Ha detto pa? Ha detto da? Ha detto ba? Successivamente il bambino mette nella memoria fonologica ciò che ha discriminato a livello uditivo, quindi mettere in memoria fonologica pane, ma se ha difficoltà in quest'ambito metterà in memoria fonologica magari una combinazione diversa, ad esempio pane piuttosto che dane, mentre invece se avrà difficoltà nella discriminazione uditiva anziché ascoltare pa, ascolterà da. E qual è la prova che ci permette di poter avere contezza che il bambino abbia difficoltà o non abbia difficoltà nella discriminazione uditiva? Quello che abbiamo visto in apertura di questa lezione, ovvero andare a chiedere al bambino di ripetermi la parola che gli sto dettando. Quindi, ad esempio, gli detto la parola pane, gli chiedo di ripetermi la parola, la parola pane, il bambino mi dirà pane, quindi vuol dire che la discriminazione uditiva funziona bene. Mi ripeterà dane, vuol dire che evidentemente ha una difficoltà a livello di discriminazione uditiva. Bene, poi passa nella memoria fonologica. Se, ad esempio, il bambino mi andrà a scrivere anziché pane, mi scrive bene o dane, sappiamo che quindi mi andrà a invertire la fonologia, ma la sequenza sarà corretta. So che il bambino molto probabilmente avrà avuto una difficoltà, ha una difficoltà nel transcodifica a livello fonologico. Mentre invece se il bambino mi scrive le letterie nel modo corretto, però me le inverte, è probabile che abbia avuto una difficoltà o comunque ha una difficoltà nell'analisi fonemica sequenziale. Dopodiché il bambino ovviamente deve andare a mettere insieme il movimento proprio fisico, motorio, della scrittura per l'associazione sequenziale dei fonemi rafemi, recupero degli schemi motori per realizzare i rafemi e la realizzazione rafica della parola. Ma della rafia ne parleremo. Successivamente. Oppure il bambino può pensare una parola che vuole scrivere ad esempio in un tema o in un testo. Questa parola che lui pensa, ad esempio vuole scrivere la parola pane, la deve recuperare dalla sua memoria ressicale. Questo recupero mentale lo va a trasformare in una corrispondenza fonologica, quindi potremmo osservare lo stesso errore se ha difficoltà a livello fonologico, a livello di transcodifica fonologica. Questo recupero mentale invece avviene in modo complesso nei momenti in cui ci sono delle forme ortografiche irregolari, ad esempio scuola con scuola, in cui il bambino può non solo invertirmi le varie parti della parola, ma anche andarmi a scrivere la parola in modo chiaramente errato, come vediamo nell'esempio dell'immagine. Anche in questo caso chiaramente deve recuperare gli schemi motori per realizzare la parola. Anche la disortografia viene citata all'interno del quesito 1 delle linee guida, dove se vi sono difficoltà in questo ambito possiamo intervenire precocemente. Non è detto che ci sia un disturbo specifico dell'apprendimento, ma è sempre bene andare a intervenire in ogni caso. Nel caso dell'ortografia, anche in questo caso, la consapevolezza fonologica la fa da padrona, è uno degli indici più importanti, uno degli indici predittivi maggiormente correlanti che vanno a corroborare principalmente con lo sviluppo non solo della lettura ma anche dell'ortografia. Quindi in pratica per andare a comprendere se un bambino può avere un indice di rischio compatibile con la lettura o con l'ortografia, andiamo a effettuare delle prove che vanno a valutare la consapevolezza fonologica. E poi anche altri aspetti che sono poi approfonditi all'interno delle linee guida. Ma come ho detto nella lezione precedente, ho realizzato una lezione di approfondimento sulle linee guida, quindi la trovate sempre sul nostro sito www.gelocolopressi.net e quindi rimando insomma a quella lezione di approfondimento. Bene, quando abbiamo di fronte un bambino con DSA, chiaramente andiamo ad approfondire la richiesta di consulenza, la problematica in breve, l'età del bambino, l'intensità della difficoltà, da quanto tempo si manifesta il tutto, andiamo a formulare le nostre prime ipotesi, vediamo il colloquio clinico-anamnestico, tutto quello che abbiamo detto precedentemente, però ci andiamo a focalizzare principalmente sugli aspetti legati all'ortografia. Chiaramente dunque andiamo a chiedere da quanto tempo permangono o sono venuti fuori questi errori ortografici, chi sei in accorto? Se all'interno di questi errori ortografici che tipo di errori sono presenti, ma questo lo vedremo proprio fra pochissimo, cosa dice la scuola di questi errori ortografici? Cosa ne pensa e cosa osserva chi studia con il bambino? Il bambino stesso è cosciente degli errori che commette, sa perché commette questi errori, riesce ad autocorreggersi in alcuni tipi di errori piuttosto che con altri? Come funziona questa sua ortografia? Le ipotesi finali e poi le prove strumentali per testare appunto queste ipotesi. Ma per un attimo vorrei andarmi a focalizzare sulla parte più importante di quando andiamo ad affrontare una diagnostica per disortografia, ovvero l'osservazione dei guaderni e l'osservazione degli errori. Qui abbiamo un elenco di errori, abbiamo sei immagini, andiamola a vedere nel dettaglio. Nella prima immagine abbiamo una fusione illegale in cui c'è presente un errore lessicale. Al lago viene scritto unito, mentre invece dovrebbe essere ovviamente scritto separato. Nella seconda immagine abbiamo un errore di doppie più un'omissione, quindi è un errore misto fonetico, fonologico. Dovrebbe essere la parola cioccolato se non sbaglio. Mentre invece nella terza immagine abbiamo un errore di doppie, quindi un errore fonetico dell'albero. Bene, nella quarta immagine abbiamo una fusione illegale, dunque un errore di tipo lessicale in cui viene messo un nido, andrebbe separato. Nella quinta e sesta immagine abbiamo un errore di doppie, un'omissione, e dunque nel primo caso abbiamo un'omissione, anche nel secondo caso in cui c'è questo errore di doppie che ovviamente è un errore fonetico. Come dicevamo precedentemente, qui abbiamo degli errori misti. Se abbiamo questo tipo di errori in bambini che frequentano la prima, seconda e terza classe primaria, ci andremo a focalizzare principalmente nel recupero degli errori lessicali. Se invece sono errori che si vanno a riscontrare in bambini della quarta e della quinta classe primaria, molto probabilmente sono presenti principalmente errori a livello lessicale. Iniziamo sicuramente se sono presenti gli errori fonologici dagli errori fonologici, ma poi ci andremo a focalizzare ovviamente principalmente e in modo più importante sugli errori lessicali. Bene, come andare a distingere per andare a distinguere però queste due classi di errori? Dunque, come andare a fare un distinguo chiaro fra errori lessicali ed errori fonologici? Piccola premessa. Realmente questa distinzione possiamo avere molte più distinzioni di quelle che vi sto presentando, ma questa distinzione ci permette di poter andare a lavorare in modo immediato sugli errori dal punto di vista clinico dal punto di vista professionale. Dunque, prendiamo i quaderni del bambino e vediamo che tipo di errori egli commette. Ad esempio, se commette errori fonologici nella scrittura, quali? Andare a omettere i rafemi, ad esempio, gufo diventa GFO, va ad omettere un'intera sillaba, pirata diventa pita, aggiunge qualche rafema, andare diventa anandare, inverte i rafemi, naso diventa anso, oppure uno scambio di rafema, filo diventa vilo, gufo diventa acuso, e così via. In questo caso, sono tutti errori, possiamo dire, in modo molto generico, su base fonologica. Mentre invece, nei momenti in cui il soggetto commette errori di separazione illegale, parlo parlo, errori di fusione illegale, come quelli che abbiamo visto, lavato per lavato, il cane il cane, oppure scambio di rafema, omofono, scuola per scuola, cucina e cucina, così via, oppure doppi accenti, siamo nell'ambito degli errori lessicali, per quanto riguarda la nomenclatura, diagnostica e di intervento. Poi, dal punto di vista neuropsicologico, realmente abbiamo molte più suddivisioni. Ma, dal punto di vista della pratica clinica, questo già è più che sufficiente per andare a identificare un profilo funzionale e poi andarlo a traslare, farlo correlare con un intervento specialistico. Queste due suddivisioni le trovate nel libro che già vi ho fatto vedere, che tengo sempre qui sulla scrivania, che è Diagnosi dei disturbi specifici dell'apprendimento, dove ci sono tutte queste differenziazioni. Vediamo degli altri errori. In questo caso, il bambino scrive gli ieri, al posto di ieri. È un tipico errore fonologico in cui c'è l'aggiunta di una sillaba composta gl in una parola semplice ieri. Come dicevamo, solitamente questi errori si osservano con maggior frequenza in prima classe primaria, andando a scomperire durante la seconda classe primaria. Questi errori dovrebbero essere ormai totalmente assenti durante la terza classe della scuola primaria. Se così non dovesse essere, ovviamente possiamo intervenire in modo specialistico. Qui abbiamo un elenco di errori fonologici con omissione di lettera e sostituzione di sillaba, ad esempio vegna anziché di sveglia, oppure pugniale con la i anziché pugnale ed errori lessicali con omissione di H dove c'è rischio oppure sciera anche qui abbiamo questo inserimento di questa omissione scusate di H al posto di schiera. Bene, poi abbiamo qui degli altri errori qualcosa al posto di qualcosa con la Q è un tipico errore di scambio in cui c'è uno scambio omofono non omografo il livello L3 secondo il lessico ortografico in uscita questo fa riferimento al modello neuropsicologico dell'ortografia. Bene, per quanto riguarda la diagnosi di disortografia i riferimenti principali sono ovviamente i manuali del ICD10 ICD11 ICDSM5 all'interno del ICD11 con il codice 6A03.1 andiamo a definire il disturbo specifico dell'espressione scritta di disortografia e la definiamo come segue ovvero abbiamo il disturbo dell'apprendimento dello sviluppo con compromissione dell'espressione scritta il quale è caratterizzato da difficoltà significative e persistenti nell'apprendimento delle abilità accademiche relative alla scrittura come l'accuratezza dell'ortografia della drammatica e della punteggiatura e l'organizzazione e la coerenza delle idee nella scrittura il rendimento dell'individuo nell'espressione scritta è nettamente inferiore a quello che ci si aspetterebbe per l'età cronologica e per il livello di funzionamento intellettuale e si raduce in una compromissione significativa del funzionamento scolastico o lavorativo dell'individuo il resto è uguale a quello che abbiamo visto prima per la dislessia quindi la diagnosi della disortografia è approfondita anche nei documenti di consenso e dagli accordi e dai documenti tecnici che abbiamo visto precedentemente quindi sulla base dei documenti di consenso che abbiamo già citato nella lezione precedente abbiamo poi i criteri di inclusione che sono quelli specifici per la diagnosi di disortografia ovvero il primo criterio è quello in cui dobbiamo effettuare una valutazione del parametro di valutazione della correttezza identificando il numero di errori questo cosa vuol dire che noi per la diagnosi di disortografia non consideriamo non valutiamo il parametro della velocità ma solo e solamente il parametro della correttezza ovvero quanti errori commette il ragazzino secondo il riterio questo numero di errori deve essere almeno al di sotto il quinto percentile questo cosa vuol dire che nel campione dei soggetti ai quali si è somministrato quel test il soggetto deve commettere un numero di errori pari al al numero al 5% dei soggetti che va peggio in quella prova ad esempio se in quella prova in media i soggetti commettono due errori ma il 5% dei soggetti commettono ad esempio 10 errori se il soggetto commette 10 errori in quella prova vuol dire che rientra al quinto all'interno del quinto percentile terzo riterio l'età minima in cui è possibile porre diagnosi di disturbo specifico della scrittura coincide con il completamento della seconda classe della scuola primaria e quindi per fare diagnosi di disortografia bisogna aspettare la fine della seconda classe primaria ma come abbiamo già detto una valutazione la possiamo fare già da quando compaiono le prime difficoltà eventualmente anche in prima elementare facciamo una valutazione per poi andare ad aiutare il bambino nell'aspetto legato alla transcodifica ortografica solamente solamente alla fine della seconda classe primaria comunque potremo fare diagnosi di disortografia poi altro criterio diagnostico la somministrazione di prove adeguatamente standardizzate di ortografia a più livelli di dettato di brano dettato di parole e dettato di non parole e deve cadere in almeno due prove di quelle che vengono presentate il disturbo anche in questo caso deve interferire in modo significativo con i risultati accademici con i risultati scolastici ovviamente quindi questo cosa vuol dire che non basta che il soggetto mi cada nelle prove ma deve oggettivamente andare male anche a scuola fa da sé che se si presenta in studio da noi è probabile insomma che abbia delle cadute abbastanza evidenti e poi andiamo a indicare il profilo funzionale sulla base della nomenclatura degli errori che abbiamo visto prima dunque ad esempio potremmo avere un profilo di un soggetto con disortografia che ha principalmente errori a carattere lessicale oppure un soggetto che ha delle difficoltà con errori misti quindi sia fonologici che lessicali facciamo lo stesso ragionamento delle ipotesi che abbiamo visto prima ovvero la nostra ipotesi è è disortografia quando è soddisfatta questa ipotesi se tutti i criteri diagnostici di esclusione sono soddisfatti se tutti i criteri diagnostici di inclusione sono soddisfatti e poi se i test ad esempio di dettato di brano dettato di non parole risultano con con cadute importanti quindi risultano positivi al test sulla disortografia e allora in questo caso si è disortografia il soggetto può cadere anche in tre prove può cadere anche in altre due prove differenti e così via l'importante che cada in almeno due prove solamente nel parametro della correttezza quindi se tutti i criteri diagnostici di esclusione inclusione più almeno due prove sull'ortografia sono soddisfatti beh questo vuol dire che c'è la conferma della diagnosi di disortografia e possiamo passare alla qualificazione funzionale del disturbo quindi osserviamo adesso i risultati dei test rileggiamo bene l'anamnesi che ci va a confermare l'ipotesi se è il caso facciamo ulteriori approfondimenti ad esempio è lo stesso modello logico che abbiamo visto per la lettura quei modelli che abbiamo visto anche precedentemente in cui andiamo ad osservare dove ci cade il ragazzino dove ha difficoltà principalmente il bambino che abbiamo in valutazione possiamo effettuare delle prove di verifica quindi ad esempio nella prova di dettato di non parole per valutare le abilità fonologiche di scrittura e così via sulla base dove va a cadere il ragazzino andiamo a intervenire in modo specifico tutto questo aspetto come già detto lo si andrà ad approfondire perché di voi eventualmente andrà a approfondire anche la seconda parte sul trattamento dei DSA andando a vedere quali sono proprio gli esercizi specifici per il trattamento dell'ortografia avendo come obiettivo quello di diminuire il numero di errori bene vediamo questo video ragione simbolo simbolo la 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 bene qui il soggetto esegue una prova in soppressione ortografica vuol dire che come nella prova che abbiamo visto inizialmente si detta la parola il soggetto in questo caso un adolescente la va a ripetere dopodiché va a scrivermi la parola mentre dice la 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 questa soppressione cognitiva ci permette di far emergere in modo importante in modo maggiormente tratante le difficoltà del soggetto e questo è il risultato bene dunque vediamo la diagnosi di disortografia in breve sempre è lo schema che è tratto dal libro sulla diagnosi dei disturbi specifici dell'apprendimento in cui andiamo a osservare dei dati clinici come la presenza di errori ortografici lessicali fonetici fonologici in anamnesi possiamo provare vari fattori di rischio possiamo non non dobbiamo andarli a trovare ma è possibile andarli a trovare andiamo a verificare i criteri di inclusione i criteri di esclusione facciamo dei test specifici per l'ortografia che sono ad esempio dettato di brano dettato di parole dettato di non parole possiamo avere anche degli indici predittivi per quanto riguarda l'ortografia in linea generale quella principale resta sempre la consapevolezza fonologica anche se abbiamo altri vari indici e poi andiamo a inserire qualora vi fosse la diagnosi i vari codici ad esempio del CD10 del CD11 o del DSM5 bene adesso vorrei consigliarvi un libro a fine lezione per questa lezione ho pensato di consigliarvi il libro nostro figlio è dislessico all'interno in realtà non abbiamo degli aiuti solo per la disortografia ma per tutti i DSA è un testo in cui possiamo avere in modo immediato degli aiuti per tutti e quattro i DSA è un manuale con strumenti strategie programmi e materiale per tutti quanti i DSA qui ci andiamo a concentrare principalmente sul metodo di studio sull'autostima sul PDP su tutti quegli aspetti che vanno ovviamente oltre l'aspetto diagnostico ma lo consiglio agli specialisti perché può dare non solo delle risposte chiare da parte dello specialista che può dare alle famiglie ma sono contenuti anche strumenti e materiali per il potenziamento da suggerire alle famiglie bene io vi ringrazio per l'attenzione anche per questa lezione e noi ci vediamo successivamente con la prossima lezione ciao